Amici, eccomi qua, pronta per ricevere la telefonata della consuocera. Ho capito che dici che deve chiamare la consuocera, deve chiamare. E noi c'è il caso, che c'è Samara? Non piangere. Ma io andavo se ne io dovevo prendere l'aereo rogne di Lampedusa e me la so. A pece di non avanza, a pietta cavuca, a pietta e calingue fuori, manco c'era una vasata. Ma non ti preoccupare, perché sennò perdeva l'aereo. Hai capito? Non ti preoccupare. Stai chiamando, non ti preoccupare, non te ne faccio fare male figura, parlo bene. Bah 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 bah, come stai dicendo i piccoli e noi siamo cannavasso perché non aviamo. Non ti preoccupare che ti faccio fare bella figura, ci pare che parlo male. Ho capito? Cioè, qua è silenzio, mamma mia sta squillando. Facciamo la prova. Pronta? 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 La signora Titina Grampulla. E ci metta la R vicino, per favore, la R vicino, perché Grampulla ha da noi una parolaccia. Rampulla, io mi chiamo con la R. Salve. Mi scusi tanto. Prego. Rampulla, quindi? Sì. Io sono la mamma di Rognone. Oh, che piacere veramente sentire la sua voce. Il suo figlio me l'aveva detto che lei chiamava. Me l'aveva detto, dice, chiamerà senz'altro mia mamma. Io ho detto qua sono che aspe e qua sono che l'aspetto. Veramente sono felicissima. Che nome ha? Che nome ha lei? Com'è che si chiama lei? Io sono la Baronessa Grandina. Oh, Baronessa Grandina. Mamma mia, che nome meraviglioso. Come la pioggia, la neve, la grandine. Mamma mia, mi fa veramente piacere. Mi fa veramente piacere di tutto. Niente, mio figlio è cotto da questa sua bella ragazza Samara. Sì, sì, lo so che il suo figlio è cotto. Lo so che il suo figlio Rogni è cotto della mia Samara. E mia figlia che è cruda. Ha capito, è cruda nel senso che ancora è come l'ha fatta sua mamma. Ha capito, ingenua, molto ingenua per questo mia figlia. Diciamo che il suo figlio ha trovato bene, veramente. Tutto bene ha trovato. Forse se ci vediamo possiamo parlare meglio. Io volevo invitarla nella mia tenuta, nella mia villa. Villa Grandina. Oh, Villa Grandina. Mamma mia, porta il suo nome la villa. Bellissimo. Per me sarà un piacere venire da lei. Va bene, fare conoscere la mia famiglia sarà un grandissimo piacere. Sì, la mia villa porta il mio nome. Questa è una delle mie quattro ville. Porta il mio nome, quella dove io abito. Ah, quella dove lei abita. Porta il suo nome. Sarà sicuramente favolosa la sua villa. Troppo bella sarà, lo so. Titina, posso darti del tu? Dammi del tu, sì. E cosa fa tuo marito di lavoro? Cosa fa? Mio marito cosa fa di lavoro? Sì, un attimo che glielo dico. Allora, mio marito non lavora, nel senso che fa lavorare gli altri. Hai dipendenti mio marito? Non è che mio marito, perché ormai... Mio marito dirige quattro banche a Padermo. Quattro banche. Bene, bene, lo sapevo che mio figlio poggiava in una grande famiglia, per bene e benestante, come noi. Sì, 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 lo so. Infatti, è così. Non è che per caso mia figlia, sa, mi si poteva mettere con un pecoraio. Vabbè, assolutamente no. E quindi tutto qua. Mio figlio Rogni mi ha detto che anche tu hai una villa? Ah, sì, pure io c'ho una villa meravigliosa, quella dove, non quella dove abito, è una casetta così, tanto per cucinare, dove è venuto suo figlio Rogno e Rogni. Ma io c'ho una villa che porta anche il mio nome, si chiama Villa Rampulla ed è la più bella villa che c'è a Palermo. Sì, sì, sì. Bene, e allora non rimane, poi ti mando l'invito con mio figlio Rogni. Sì. E quindi ci vediamo presto, Titina. Certo, 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 sì. Ciao, ciao, Titina, ciao. Ciao, ciao. Vediamo. Ma nemmeno cosa, chissà che dice che baroni sei tu, cazzo, dico io. Sta conferenza che mi hai detto subito, dico tu. Titina, dico tu, però, visto che ti ho fatto fare figura, ma ti pare che mamma tua non sa parlare, dico io? Ma ti pare che mamma tua non sa parlare? Preparate che ne metto nella sua villa. Grandina, Grandina. Si chiama Grandina tua suocera, Grandina. Mi sa che c'è fare chiove io con che cosa. Ah, chissà quando ci vai. Quindi la prossima settimana ci andiamo. Contenta, gioia mia. Oh, va fatti piatta voi. Signori miei, che emozione. Ci poteva cacciare via una fanga. I ravanzi. Ho capito? Tutti schiettoschi. Ora chi sarebbe io? A Grandina, a Barunissa Stukas. Se tu hai Barunissa, io sono regina. Non per dirlo. Comunque, sono contenta di questo fidanzamento. Ora poi ci andiamo a conoscere questa villa Grandina. Non ti rischiare mai di mettere il tuo suocero. Capiste? Perché io ci disse che abbiamo la villa all'ampulla. Ho capito? Non ti rischiare. Noi cercheremo sempre delle scuse. Ho capito? Cercheremo sempre delle scuse per non farle venere. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao, ciao, ciao.